Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Siccome tu Antonio hai scritto che pure i rutti dei vice sono utili a Giorgia Meloni, perché hai scritto queste parole? Perché è evidente che in questo momento il Paese, anche chi non ha votato per Giorgia Meloni, assiste un sgomento all'emergenza di tutti questi problemi, l'immigrazione, l'economia, eccetera, e quando sente parlare Salvini o il suo vice Crippa, vice di Salvini, insomma ha fatto carriera nella vita, si chiede, ma tutto sommato La Meloni non sarà il male minore? Cioè la Meloni oggi viene percepita come quella che comunque con tutti i suoi difetti fa argine rispetto a questo modo, scusate l'espressione, un po' cavernicolo di affrontare i temi e quindi anche Crippa fa gioco, ripeto, restiamo sempre all'interno di un uso mediocre della propaganda, mentre i problemi sono altri e ci accerchiano. Grazie.